Ci sono dei comportamenti che rivelano la tua manipolabilità, cioè alcune persone si comportano in dei modi che predispongono la loro mente ad essere più facilmente manipolata rispetto a quella di altri e questi comportamenti ce ne sono molti, alcuni sono quelli che descrivo in questo video, ma ci tengo a sottolineare che questi comportamenti predispongono la persona ad essere manipolata, la persona che smette di avere questi comportamenti non è più predisposta come prima alla manipolazione, cioè già il fatto di smettere di comportarsi in quel modo ti rende meno manipolabile e questo è un aspetto importante, cioè quel comportamento porta con sé un sottoprodotto, la manipolabilità, ecco, e ti rende manipolabile. Per esempio, ci sono alcune persone che sono estremamente accondiscendenti con gli altri, ok? Perché ritengono che sia giusto fare del bene e fanno sempre del bene, sempre, costantemente, indipendentemente da chi hanno di fronte, sono sempre disponibili, quasi a disposizione degli altri. Sono persone che rimangono spesso deluse perché poi gli altri non ci sono per loro, non ricambiano questo comportamento e quando hanno bisogno si ritrovano sole, cioè fondamentalmente sono persone che vanno incontro alla delusione, sperimentano molto spesso questa emozione, la delusione, perché gli altri non sono come loro si aspetta. Altro comportamento molto tipico quando, per esempio, le persone hanno questo atteggiamento di cercare la comprensione empatica, cioè alla fine io mi sono comportato così e ti ho graffiato perché stavo male e quindi ti portano il loro vissuto emotivo, il loro storico, ricercano questa comprensione empatica ogni volta che c'è stato un alterco, un'incomprensione tra di voi, ecco, e questo mette in evidenza una cosa molto chiara, e cioè il fatto che tu, se fai in questo modo, molto spesso ti sei sentito tradito o tradita, perché ti sei sentito preso in giro da delle persone che hai avuto l'impressione ti abbiano usato. Ecco, per quale motivo? Perché quando io ho una responsabilità nell'averti fatto del male, ti chiedo scusa. Se cerco la comprensione empatica, quello che sto cercando di fare, invece, è di catturare la tua attenzione tramite una forma di captatio benevolenza, cioè fondamentalmente di raccogliere la tua compassione per addolcire il tuo atteggiamento, far passare in secondo piano il male che ho fatto a te, mettere in primo piano il male che io ho dentro di me, capisci? È una forma di manipolazione basata sull'empatia. Altro comportamento che rivela una forte manipolabilità, la tendenza a spiegare tanto quando qualcosa non funziona, spiego, spiego e rispiego e te lo rispiego. Ecco, anche questo è un comportamento che ti porta solitamente a vivere relazioni insoddisfacenti molto a lungo con persone che poi quando ti guardi indietro dici, diamine, ma cavolo, è sempre stata così, ho fatto proprio una bella cavolata, ho buttato via un sacco di tempo e questo ti è successo con fratelli, sorelle, cugini, genitori, partner, con tutti, con tutti quelli con cui hai avuto questa tendenza. Se tu smetti di spiegare, vivi ovviamente un disagio. Perché vivi il disagio? Perché la tua tendenza è quella di spiegare. Spiegare a che scopo? Perché questo è l'aspetto fondamentale. Tu devi imparare a chiederti quali sono le intenzioni dietro a questi comportamenti che tu hai. Perché devi spiegare? Perché è stupido e non capisce? Tu dirai no, io lo spiego per aiutarlo a migliorare. Perché ha bisogno che tu glielo spieghi per migliorare? Perché è stupido e non capisce? No, ma le cose si spiegano. Perché ha bisogno che le cose gli vengano spiegate? Perché è stupido e non capisce? Tu devi cominciare a capire che se tu devi spiegare e rispiegare alle persone qualche cosa, le stai trattando come delle stupide che non capiscono. E ti devi assumere questa responsabilità. Smetti di raccontarti la storiella che lo fai perché ognuno ha i suoi tempi. Se tu le devi spiegare centinaia di volte a una persona, lo stai trattando come un coglione. Per quale motivo una persona dovrebbe accettare un trattamento del genere? Se non facendoti perdere tempo. In realtà ti prende in giro. In realtà non ha intenzione di cambiare. Bene, ora che te l'ho detto. Lo sai dietro a quante persone sei stato, sei stata con questo atteggiamento stupido? È perché c'era una persona che aveva un atteggiamento stupido ma non era quell'altra. Ecco, quanto ci sei stato? Quanto ci sei stata? Quanto hai perso? Dai, quanti anni? Ecco, vogliamo fare i conti? Benissimo. Andiamo alla comprensione empatica. Qual è l'intenzione per cui se tu mi fai del male, io ti devo capire, cioè devo capire il dramma che tu vivi che ti ha portato a farmi del male. In che modo la comprensione di quel dramma allevia il danno che mi hai arrecato? Vorrei capire questo. Perché quando parliamo devi passare dal danno che tu hai fatto a me a quanto stai male te? Perché dobbiamo passare dal fatto che tu mi hai fatto venire il mal di pancia al tu avevi già il mal di pancia? Scusami un istante. Allora, quando si parla di qualcosa si resta sul pezzo. Per quale motivo non resti sul pezzo di una cosa che hai fatto tu? Perché non te ne vuoi assumere la responsabilità. E tu dirai, no, ma perché le persone vanno comprese. Certo, vanno comprese. E questa cosa, per quale motivo deve distogliarti dalle responsabilità che hanno? Per quale motivo quella persona non deve comprendere te? Per quale motivo se ci comprendiamo non dobbiamo comprenderci in due? Tu mi fai del male, io vengo da te, tu mi dici, ma io stavo male. Oh, piccolino, allora se stavi male tirami un'altra coltellata. La sai quella del coccodrillo? C'è un tizio porta a giro un coccodrillo, no? Ecco, porta a giro il coccodrillo e trova un suo amico e dice, ah no, ma Mario accarezzalo, il mio è un coccodrillo domestico. Lui allunga la mano, il coccodrillo, boom, gli mangia la mano. E Mario comincia a urlare, sanguina, e lui gli dice, no, ma dai, accarezzalo con l'altra mano, mica l'ha fatta apposta. E lui allunga l'altra mano e, boom, gli mangia anche l'altra mano. E Mario comincia a urlare e lui dice, ma no, dai, accarezzalo con un piede, mica l'ha fatta apposta. E lui l'accarezza con un piede, boom, gli mangia anche il piede. E poi a un certo punto Mario urla tutto sanguinante, il coccodrillo piangi, dice, ah Puccinino, piangi, tieni, tieni, mangiatelo tutto. Ecco, cioè fondamentalmente, se io ti faccio del male, devo assumermi la responsabilità che ti ho fatto del male, perché stiamo a parlare di questo. Poi, il momento in cui andremo a parlare di come mai sei arrivato a questa esasperazione e come posso darti una mano, ti dedico il mio tempo più che volentieri e ti do una mano. Ma facciamo così, la prossima volta che fai qualcosa che mi danneggia, chiedimi la comprensione empatica prima, non dopo avermi fatto del male, perché altrimenti mi viene il sospetto che mi prendi per il culo. Hai capito come funziona adesso, adesso che hai capito come funziona, dimmi quante volte ti sei fatto prendere in giro e ci sei rimasto male, perché ti hanno preso in giro, ti sei accorto che qualcuno se ne approfittava, dimmelo, dimmelo, più di dieci? Ecco, capisci che questo, senza dubbio, è uno di quei comportamenti lì. O arriviamo al discorso dell'essere disponibile nei confronti degli altri, va bene? Ecco, tu ti rendi disponibile, addirittura previeni bisogni altrui, ok? Ecco, quante volte ti sei accorto che prevenire bisogni altrui non implica automaticamente che poi gli altri facciano lo stesso con te? Teneri accorto? Questa è la più facile di tutte da capire, la verità è che ti sei accorto che essere troppo accondiscendente educa gli altri a mancarti di rispetto, ma questa è la più facile da capire per cui ci perdo meno tempo. Questi comportamenti, già smettere di farli, cioè, spiego meglio, comincio a dire di no, vai a vedere il video, impara a dire di no, ne ho fatti due o tre, ok? Ecco, e quindi prima prendo tempo, segui gli schemi dei video e poi mi rendo indisponibile, ok? Ecco, già questo ti fa capire che alcune persone ti usano e basta, perché dico, oh, ma non ci sei mai, ecco. Poi, altro aspetto importante, il discorso della comprensione empatica. Io parlo con te e ti dico, sì, ok, io capisco che tu sei esasperato, ma ora qui siamo a parlare del fatto che hai fatto del male a me. Poi prometto che ci rivediamo e parliamo di come mai questo è successo e delle tue difficoltà. Ma adesso parliamo di questo. Tieni le persone sul pezzo. Non devi sottrarti dal comprenderle. Devi insegnargli a rimandare l'esigenza impellente di essere comprese. Ecco, questo sì. Altro aspetto fondamentale, gli spiegoni, stai zitto, non spiega più nulla a nessuno. Una volta, due volte, tre volte, basta, stop, fine, guarda i comportamenti, ok? Ecco. Già il fatto di smettere di fare queste cose allontanerà delle persone e tu che farai la prima volta? È ovvio quello che fai sempre, cioè inizia a fartene un problema. Mi faccio autocritiche e penso, non è che è colpa mia? È ovvio. Mica sono gli altri che si approfittano di me perché il mio comportamento mi predispone ad essere il fessacchiotto di cui tutti si approfittano. No, ma ci mancherebbe, io non ti sto dicendo questo, io ti sto dicendo che forse quelle persone non ti volevano bene come pensavi, ma meno, molto meno, ok? Forse non erano le persone migliori da avere intorno e questo è un aspetto importante, ok? Quindi, adesso scrivi nei commenti quante volte ti sono successe queste cose. Ciao!